Ho piacere parlarvi dell'intensivo sull'essere consapevole, perché per me è stato decisivo per scoprire il senso, il valore e la direzione della mia vita. L'intensivo è un corso di tre giorni dedicato al conoscere di più se stessi e precisamente divenire maggiormente consapevoli. L'intensivo è un contesto in cui si sviluppano relazioni di altissima qualità che diventano possibili grazie alla scelta di interagire in modo curato e oltre in modo speciale, diremo unico. L'intensivo è un corso residenziale di tre giorni in cui si lavora come una squadra ben organizzata. Anche se il gruppo si autoregola e si autogestisce, è supportato da un team di assistenti e da una guida responsabile altamente preparata. La qualità delle relazioni umane è una colonna portante dell'intensivo. Nei tre giorni del corso si investe molta cura e attenzione per creare relazioni piene di apertura, verità e correttezza. La qualità delle relazioni si afferma progressivamente, cresce a dismisura nell'intensivo fino a ottenere la proprietà nobile dell'equivalenza. Ognuno sente il proprio valore e riconosce il valore equivalente degli altri. La qualità e l'intensità dell'attenzione aumentano e grazie a questo cresce anche la comprensione. Di conseguenza diventa così possibile affrontare e integrare gli risolti che ognuno di noi porta in sé. Comunicare diventa lo strumento per liberarsi dalle ombre del passato e rinnovarsi. Stare insieme con un fine comune, con il pieno senso del valore e sostenersi reciprocamente rappresenta una straordinaria esperienza formativa per ogni persona che partecipa e coinvolta all'intensivo. Per centrare l'obiettivo di conoscere maggiormente se stessi si pratica una tecnica semplice e altamente efficace che guida l'attenzione dell'individuo, la guida ad esplorare la propria interiorità come non ha mai fatto prima. Una qualità dell'intensivo, come dice il suo stesso nome, è l'intensità. Il tempo viene dedicato completamente alla pratica della tecnica per conoscere ed esprimere la verità emergente di se stessi, momento per momento. La tecnica viene usata intensamente perché viene praticata con tutta la forza che si possiede e per tutto il tempo a disposizione. Grazie a questo impegno straordinario, i partecipanti hanno l'opportunità di scoprire l'efficacia della concentrazione e approdano a comprensioni profonde sulla propria natura essenziale. L'esplorazione che si compie nell'intensivo è simile all'impresa del primo e straordinario Battiscafo Trieste che ha conquistato le profondità dei mari arrivando lì dove nessuno era mai giunto prima. I tre giorni nell'intensivo sono come un viaggio per immergersi e raggiungere le profondità di se stessi. Ognuno ha la sua fossa delle Marianne da conquistare, un abisso da attraversare prima di toccare la propria essenza fondamentale sino a trovare la perla che sta cercando. L'intensivo può essere descritto come tempo ed energia dedicate alla ricerca della propria essenza consapevole. L'intensivo è un nodo in cui spazio, tempo e persone si incrociano per spendersi con intensa energia sia per un fine condiviso. La sua efficacia nasce proprio dal fatto che tutta l'attenzione personale viene completamente incanalata. In che cosa viene incanalata tutta l'attenzione del partecipante? Su se stesso. Tutti sanno portare l'attenzione sugli oggetti dei sensi e sull'esperienza attuale come, per esempio, guardare un gatto. Ma poniamoci la domanda chi guarda il gatto? Come mettere l'attenzione su chi guarda il gatto? Chi vede il gatto è l'individuo consapevole che ha bisogno di essere maggiormente riconosciuto, ha bisogno di essere reso ancora più consapevole. L'intensivo ci offre l'opportunità di conoscere chi sperimenta gli oggetti dell'esperienza. Il processo cognitivo dell'essere che conosce se stesso è diverso dai processi sensoriali o mentali attraverso i quali si conosce la realtà fisica e psicologica degli altri. Tutto questo è incredibilmente utile. I partecipanti scoprono veramente le loro potenzialità. Concentrando l'attenzione si sentono pieni di energia e fanno emergere virtù inedite come la persistenza. la passione, la tenacia, l'entusiasmo, la positività. Energia liberata viene ancora incanalata sull'oggetto che si desidera conoscere. Viene trasformata nell'intenzione di vivere direttamente sino a sperimentare l'esperienza diretta di se stessi. Un'esperienza indescrivibile e preziosa. L'intensivo sull'essere consapevole è un'onda che cresce piano piano sino a raggiungere una potenza che travolge e trasforma ogni cosa. Per conoscere di più questo straordinario strumento di crescita personale vi consiglio un mio libro intitolato proprio Intensivo sull'essere consapevole. La lettura vi permetterà di conoscere l'intensivo da molti punti di vista ma anche di maturare una scelta e scoprire se questa è un'esperienza che dovreste fare. Chi desidera partecipare al prossimo intensivo presto fatto può contattare il nostro team e richiedere ogni informazione necessaria. Il mio augurio per tutti è che conoscere se stessi diventi un vero bisogno di ognuno. Grazie.